Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori, l'Italia intera è sotto shock in questo video parliamo di un lutto che ha colpito in primis Maria De Filippi ma più in generale l'intera televisione italiana e prima di sapere di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in questo video parliamo di una triste notizia che ha colpito la musica e la televisione italiana e come detto anche la regina di Mediaset Maria De Filippi si comunica che a soli 26 anni e dopo aver combattuto contro un linfoma è mancata la cantante napoletana Antonia Capasso in arte Cassandra la ragazza aveva un sogno e un obiettivo ben chiaro ovvero sfondare nel mondo della musica memorabile il suo provino a distanza tenuto in collegamento con Maria De Filippi per entrare ad amici soprattutto durante il periodo di lockdown Antonia Capasso aveva conquistato fan da tutte le parti d'Italia la sua tenacia e la sua voglia di combattere erano stati un esempio per tutti coloro che soffrono purtroppo notizia di poche ore fa Cassandra non ce l'ha fatta e si arresa al linfoma contro cui combatteva il prima di Marco Liguori con tutto il dispiacere del mondo ricorda un angelo colato in cielo davvero troppo presto Antonia Capasso giovane cantante che aveva un sogno che purtroppo non realizzerà mai che possa riposare in pace amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori per le notizie giornaliere di cronaca seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti grazie a tutti